ahhh 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 grazie che cosa mi hai presa la colazione ahhh che cos'è quello che piace a me ahhh che sarebbe sta cosa fatta di gomma duro ma non sarebbe ahhh è troppo duro va bene tutto ma questa dai dove l'hai presa sta cosa te l'avranno dato pure scaduto questo sarà di qualche settimana fa ahhh 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 grazie per la colazione può rimanere lì dove era ahhh ahhh